Da oggi, lunedì 15 aprile, ogni giorno è buono per conoscere l'esito della domanda per il reddito di cittadinanza che è stata presentata fino al mese scorso, fino infatti alla fine del mese. Chi ha presentato la richiesta per il reddito o la pensione di cittadinanza a marzo riceverà una lettera di risposta, anzi una risposta dall'Inps, non necessariamente una lettera, ci sono anche meccanismi di comunicazione ancora più rapidi. Ma questo lo verifichiamo subito perché siamo in collegamento con l'Inps, la sede di Chieti, con il vice direttore regionale e con la nostra Anna Di Giorgio. Allora Anna, come sta andando questa giornata che abbiamo chiamato la giornata delle risposte? Sì Carmine, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Sì, questa dovrebbe essere appunto la giornata delle risposte perché, come ci anticipava anche Alessandro Romano, che è il vice direttore regionale dell'Inps, oggi si dovrebbero conoscere appunto gli esiti delle prime domande inoltrate nel mese di marzo. Quindi diciamo che quelli che hanno iniziato prima a fare queste domande dovrebbero, tra Pasqua e il 25 aprile, avere un nuovo di Pasqua con una bella sorpresa. Direttore, intanto che dati avete voi a livello regionale? Allora, sì, grazie, saluto anche il direttore. Noi abbiamo circa 23 domande che sono entrate nelle procedure Inps perché ovviamente noi riceviamo le domande dai CAF e dalle poste dove i cittadini vanno a presentare, poi ci vengono trasmesse e quindi noi parliamo delle domande che sono arrivate all'Inps. Noi abbiamo avuto due momenti di presentazione, appunto il mese di marzo e adesso stanno presentando le domande per il mese d'aprile perché dal 6 di ogni mese si possono presentare le domande. Giustamente, come diceva, il lotto primo, che è quello del mese di marzo, andranno in definizione nell'arco della giornata di oggi o giornata di domani. Quindi ci sarà la prima, la prima vera e propria valutazione da parte dell'Inps delle domande presentate nel mese di marzo. Parliamo di, adesso faccio riferimento solo alla zona di Chieti, circa 2200 domande che erano state presentate a marzo. Poi, ovviamente, come fa il cittadino a saperlo? Che è la cosa principale, gli arriverà l'SMS e quando gli è arrivato l'SMS, quando la domanda è arrivata all'Inps è stata protocollata. Quindi sullo stesso numero riceverà un'SMS che in caso di accoglimento gli dirà la domanda è stata accolta e poi vediamo, ci sarà un'ulteriore fase. Mentre chi invece ha avuto la respinta riceve comunque un'SMS di respinta, ma poi riceverà un provvedimento specifico dove vengono indicati tutti i motivi della respinta. La fase ulteriore, dopo aver ricevuto questo SMS, la domanda viene inviata dall'Inps al Poste, che come sapete sono il gestore di questa tessera, la reddita di cittadinanza. Le Poste hanno un tempo tecnico per elaborare i file trasmessi dall'Inps. Noi gli mandiamo sia le domande accolte, ma anche l'importo, perché viene fatto un calcolo di quello che è l'importo aspettante. E anche questo arriverà tramite SMS, un SMS con cui le Poste comunicano la data e il giorno in cui c'è l'appuntamento per andare a ritirare la carta. Quindi pensiamo che sono fasi diverse. È una procedura nuova, parliamo anche di numeri importanti. Dicevo a base regionale sono circa 16.000 domande che saranno quelle vagliate per il mese di marzo e quindi dovrebbe andare tutto in porto per le date che diceva. Se posso, volevo dare anche due dati che avete voi in vostro possesso. Insomma, al 15 aprile, parliamo dei dati aggiornati al 15 aprile, la provincia di Chieti è quella che ha ricevuto il maggior numero di domande con 6.893. A seguire poi c'è la provincia di Pescara con 5.804, poi abbiamo la provincia di Teramo con 5.242 e l'Aquila con 5.025 domande. A livello di comuni invece è però Pescara con 4.095 domande la città che ha ricevuto più domande. Parliamo ovviamente della sede dell'Inps. A quanto ammonta più o meno questo reddito di cittadinanza? Beh, diciamo che il reddito di cittadinanza è un importo variabile, varia sulla base della componente A, diciamo che è legata al nucleo familiare, quindi lì può variare a seconda del nucleo, a seconda della presenza di disabili, a seconda del reddito che è stato dichiarato in domanda o che è stato rilevato. E poi c'è la componente B che è solo per il pagamento dei mutui o per l'affitto. Quindi il soggetto che ha diritto al massimo riceve appunto i 780 euro, poi sappiamo che ci sono importi più bassi, diciamo che la media che è stata dichiarata è di circa 520 euro, però parliamo di importi veramente differenti e non si può fare ogni caso, bisogna verificare la composizione del nucleo e quello che è stato dichiarato nella domanda. Ricordiamo anche che in caso di autocertificazioni volutamente sbagliate c'è anche una responsabilità penale. Sì, è stata introdotta apposta col decreto che è istituito il reddito di cittadinanza, una sanzione penale particolare proprio per quelle finalizzate a ottenere o la prestazione o un incremento della prestazione stessa. Noi collaboreremo con le forze dell'ordine per verificare questi casi, ovviamente senza intenti punitivi, se ci sono singoli errori o specifici errori, si valuteranno caso per caso. Grazie allora ad Alessandro Romano, vice direttore dell'Inps Abruzzo. Carmine, se non hai domande da studio ti restituisco la linea. No, no, soltanto Anna per ricordare, entro quando arriverà questo messaggino sul cellulare che deve tenere acceso chi aspetta questa notizia in queste ore, entro quando arriva il messaggio? Chiediamolo al direttore. Allora, il direttore chiedeva entro quando arriva questo messaggio, insomma, dell'accoglimento effettivo di questa domanda del reddito di cittadinanza? Direi che nell'arco di questa giornata o nelle prime ore della prossima giornata dovrebbero esserci già l'arrivo di questi sms, ovviamente non parte un sms unico, saranno scaglionati tra le varie domande, però diciamo che nell'arco delle 48 ore dovremmo avere questo primo messaggio. Ok, grazie, grazie, buon lavoro. Grazie, grazie Anna, naturalmente un approfondimento questa sera al 20 e 40 per chi ne volesse sapere di più.